La netta vittoria contro la Gupe Battiati ha aperto il campionato di Serie C del Papiro Volley. Il libero Simone Lombardo, colonna della squadra, racconta ai nostri microfoni gli obiettivi di inizio stagione e la grande voglia del gruppo di conquistare quella Serie B che l'anno scorso è sfumata all'ultimo respiro. Siamo con Simone Lombardo, libero del Papiro Volley. Cominciamo con l'ultima vostra partita, con l'esordio in campionato, questo netto 3-0 alla Gupe Battiati, con l'esordio anche di due giovani, di due classi e 99. Che partita è stata? La partita è stata abbastanza facile perché abbiamo giocato contro un gruppo tutto under 16. Quindi devi giocare comunque al massimo per rispettare l'avversario pensando che comunque questi ragazzini faranno un bel campionato, miglioreranno. E quindi noi intanto dobbiamo portare a casa questo 3-0 importante perché è il primo tassello per centrare il nostro obiettivo. Volevo riavvolgere con te un attimo il nastro indietro di qualche mese. La retrocessione dell'anno scorso è stata una beffa perché voi avevate recuperato alla fine. Come siete riusciti a ripartire? Come avete ritrovato le motivazioni? Allora, l'anno scorso la prima metà di campionato è stata deludente, eravamo ultimi. Il giorno di ritorno è stato invece da record per noi perché contando solo il giorno di ritorno, mi sembra che ho visto la classifica, eravamo quarti-quinti. Quindi abbiamo fatto un gran girone di ritorno e non abbiamo mai mollato. Poi lo sport ci insegna che ci sta. È stato difficile ripartire, devo dire. Però la passione c'è, è tanta e dobbiamo andare avanti. Quindi già ci alleniamo da un mesetto e mezzo. La squadra c'è, il gruppo è abbastanza solido, unito, quindi ci sono tutti i presupposti per una bella stagione. Allora, io sono un pochino scaramantico, però il nostro obiettivo è play-off e vittoria del titolo. Quindi noi ce la metteremo tutta. Ci alleniamo quattro volte alla settimana, due giorni di pesi, quindi due sedute di pesi la mattina. E noi ce la mettiamo tutta, ce la metteremo tutta fino alla fine. Poi, si sa, la palla è rotonda. Secondo te quali sono gli avversari principali? Gli avversari principali, secondo me, sono la palla a volo Gela, la roca a gira, la new major di qua, un derby famoso con il fiume freddo, con il papiro volley, e il diavolo rossi nicosia. Ultima domanda, domenica in campo contro Lusco Gravina, debutto casalingo, ovviamente si scende sul parquet per vincere. Sì, sì, assolutamente. Lusco non è una squadra ultima arrivata, diciamo, quindi noi dobbiamo mettercela tutta per andare a prendere questi altri tre punti. Dobbiamo mettere a segno il secondo tassello di questo lungo campionato.